La tua esplorazione della riserva prosegue verso sud, vicino all'argine del Tronto. Sei sul sentiero della Pantiera. Ma che cos'è la Pantiera? È uno specchio d'acqua salmastra un tempo utilizzato come area di caccia. Quello della Pantiera è il più grande laghetto retrodunale della sentina. Qui si apre il prezioso ecosistema della zona umida. L'abitat ideale per numerosi uccelli acquatici. Lungo il percorso puoi scorgere una specie vegetale che è stata reintrodotta, la canna di Ravenna. Dove prima c'erano i baldacchini per la caccia, oggi ci sono le altane per il birdwatching. Sali su con la tua macchina fotografica. Qui puoi ammirare oltre 180 specie di uccelli che sostano in sentina nel loro lungo viaggio migratorio. Come il Cavaliere d'Italia, mentre pesca al tramonto. L'Aerone Cenerino, che spiega le ali in un volo maestoso. O il meraviglioso Fenicottero Rosa, che con il suo passo elegante lascia tutti a bocca aperta. Sali su con la tua macchina fotografica.